dottore posso venire a fare il vaccino è già arrivato in farmacia lo posso venire a comprare sono queste le telefonate più ricorrenti in questi giorni negli ambulatori e nelle farmacie ormai è sindrome influenza tra la gente sono bastati qualche servizio sulle tv nazionali e sulla stampa per scatenare il parapiglia sul fatto che il nuovo ceppo di quest'anno la h3 sia oltre che più violento già stato isolato a fine agosto in un bambino extracomunitario proveniente dalla libia fatto che potrebbe anticipare di qualche mese il picco influenzale rendendo così praticamente inutile il vaccinarsi a questo si è unito anche l'allert lanciato dai medici di famiglia aderenti alla fimj una delle associazioni di categoria durante il loro congresso nazionale preoccupati dell'aggressività di questo ceppo ma l'italia è stretta e lunga e ogni territorio alla sua storicità oltre ad essere costantemente monitorato da chi di dovere sugli aspetti sociosanitari come il dipartimento di prevenzione salute dottor agostini questo problema della influenza che è in anticipo è un problema che riguarda anche il nostro territorio può essere un problema per i nostri cittadini il picco epidemico dell'influenza nel nostro territorio abbiamo sempre avuto diciamo inizia a gennaio per salire in maniera esponenziale verso febbraio quindi grosso dell'influenza da noi sia tra fine gennaio febbraio per poi arrivare a marzo dove decresce la vaccinazione è in programma da fare entro il mese di novembre può essere fatta anche i primi di dicembre perché per essere coperti basta un mese almeno un mese prima rispetto all'eventuale epidemia di influenza quindi una vaccinazione fatta a novembre copre benissimo verso gennaio l'eventuale picco in genere noi partiamo con la campagna vaccinale verso la fine di novembre anche l'anno scorso è stato così anche l'anno precedente e se non ci sono disguidi legati a c'è stato anche il problema del terremoto per cui la ragione un po' impegnata in questo periodo in alcune emergenze però in genere noi quanto entro la fine di novembre si parte con la campagna noi ci stiamo organizzando per partire per i film diciamo dal 15 novembre in poi